se si prende un treno che non abbiamo mai preso che ogni tanto a bologna si fa vedere perché l'ho ripresi a gennaio 2023 quindi se ci va bene si uno studler non si viaggia in pop eh si ok ce la facciamo ma benissimo va benissimo se la gente sbaglia finisce dritta a bologna qui e vedere come mi pento ad aver preso sto treno stai a vedere perché mi sembra bello zeppo l'altra volta c'era il pop qua l'abbiamo visto andar via ok molto bene quindi oggi farò già un video utile lo faccio vero il viaggio sullo strada che non ho mai fatto vi dico subito che i sedili fanno cagare in tutto e per tutto sono proprio sedili stile swing duri 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 però da notare che curiosamente i questi braccioli sono quelli della md e dei vivalto finestrini come studler li sa fare non deludono mai fossero apribili sarebbero meravigliosi e ora si vede tutto il resto peccato per i sedili veramente sono abbastanza ergonomici ma insomma il sound non mi dispiace da dentro da fuori mi ha sempre fatto schifo il sound degli studler e che dire tutto sommato è migliore in tutto e per tutto del pop rispetto cioè tranne i sedili tranne i sedili su quelli non c'è confronto qui c'è un tavolino che se non sbaglio è lo stesso della TR 125 a dimostrazione di quanto siano simili come treni c'è lo stesso treno solo che questo è elettrico un po' come il minuetto e facciamo una sola fermata quindi per 50 minuti scarsi ci sta che piccolo appunto su questo treno è più rumoroso di un pop si sente più rumore questo devo dirlo non so se complici sono i grandi finestrini ma non credo perché il vetro è un grande isolante acustico viene tutto dalla zona carrelli sentite che chiasso intercomunicante che ha perso sì quello è un intercomunicante che doveva essere chiuso infatti negli ATR 125 è chiuso l'intercomunicante questa dovrebbe essere già la famosa galleria al cui centro c'è il posto di controllo precedenze che è proprio il nome della stazione far ritenere sì sì la stazione si chiama precedenze stazione sotterranea era una stazione effettiva da quello che ho visto c'è un po' di filtraggio d'aria dalla porta ci sta che dopo 11 anni questi affari comincino a mostrare qualche segno del tempo ecco vi posso dire che come treno non mi sembra assolutamente adeguato a queste tratte questo è molto più per roba urbana non per fare cioè suburbana sì non per fare tratte così lunghe ecco questa dovrebbe essere la famosa precedenza non per fare tratte così lunghe qui ci vedo molto meglio il pop onestamente c'è da dire che a differenza del pop questo serpeggia meno non è perfetto ma serpeggia veramente poco mettiamola così questo più che serpeggiare come fanno i rock o che so io che proprio che fanno a frequenze elevate questo ondeggia potremmo dire che ti culla mentre viaggi in piedi non dovrebbe dare troppo fastidio questa cosa non ha niente a che vedere con i serpeggi che conosciamo noi però posso dire che preferisco sicuramente il pop perché qui manca le prese di corrente non sono da nessuna parte né sotto i sedili non ci sono non ci sono su un treno moderno questa cosa mi lascia un po' deluso parliamo comunque del 2013 insomma molto curiosa questa cosa negli ATR 125 c'erano mi ricordo e sono del 2011 questo conferma la teoria che questo treno è per roba suburbana non per tratte così lunghe qui si vede la grande vetratura di questo treno è tutta luce questo non mi dispiace assolutamente questi treni sono anche fatti con allestimento intercity qui ci sarebbe voluto una via di mezzo tra questa roba e qualcosa insomma din don annunci zero dunque siamo a San Benedetto Sambro questi sono i mezzi con cui mi sa che fanno i lavori o un stoccaggio di roba perché qui alle 9 chiudono tutto chiudono la linea e cominciano a lavorare fortunatamente sono presenti le pedane questo già va meglio l'unica cosa di questo treno che posso dire è che i freni non li senti persino quelli del jazz fanno se uno ha un ottimo orecchio qualcosa senti questi sia dal vivo che dentro non riesce a sentirli i freni perché mi sa che questo treno ha un'ottima frenatura elettrica ci vorrebbe un bello scatto SCMT per sentire i freni come ripresa direi niente male la potenza c'è e purtroppo la forma a suppostone è anche bella aerodinamica questo non glielo si può negare ecco dai tutto considerato è un viaggio piuttosto leggero senza fare le 11 fermate che ci sono nel mezzo ma tanta roba beato chi va da Proto a Bologna a prendere sto treno qua la mattina perché fare tutte le fermate è una noia sono stato anche nel bagno fate attenzione alla serratura perché si chiude normalmente ma poi per aprire la porta parlo di quello per disabili dovete sia aprire la serratura con questo movimento classico ma poi dovete anche girarla leggermente e nel mentre tirare la maniglia per l'apertura altrimenti restate belli chiusi dentro l'esperienza Stadler finisce qui in genere la giudico non male dai siamo onesti non è malaccio grazie a tutti grazie a tutti